Io partirei proprio dalla rete come strumento integrante della politica disstrutturale, la rete come dicevo la mattinata è un programma della politica disstrutturale, come tale deve essere inteso e come tale credo che faccia un'azione di politica attiva a tutti gli effetti e credo, Alessandra citava il ciclo di seminari, questo è il terzo seminario che facciamo sui migranti, che noi abbiamo cercato di, di nuovo per scelta, abbiamo strategica anche condivisa con la stessa Alessandra, con l'Università della Calabria con cui abbiamo iniziato il percorso e poi si è allargato a Cittalia e al servizio centrale dello Sprar, di nuovo per scelta pensata e condivisa, cercando di guardare al tema in una maniera, come dire, multidisciplinare comunque cercando di vedere e di approfondire e di conoscere le varie dinamiche che il tema delle migrazioni aveva con il nostro mondo di riferimento e quindi abbiamo cercato di guardare i rapporti all'interno, i rapporti chiamiamoli di lavoro, i rapporti di lavoro all'interno delle diverse filiere produttive agricole con tutte quelle che sono gli aspetti di effettiva integrazione o di non integrazione di lavoro nero caporalato che ne sono derivati, abbiamo guardato i temi strettamente di inclusione con le questioni che citava anche la collega legati all'agricoltura sociale come alcune esperienze di agricoltura sociale sono state capaci di integrare i migranti in una logica di non solo di integrazione e di inclusione nell'attività produttiva ma anche di integrazione sociale sul territorio e ovviamente siamo arrivati, abbiamo ragionato a lungo sugli aspetti dell'accoglienza e dell'integrazione territoriale dei migranti e evidentemente il percorso integrato di tutti questi aspetti che abbiamo affrontato fanno parte di quel percorso di risposta che dobbiamo costruire, dobbiamo continuare a fare rete, la rete deve continuare a fare rete, ad oggi abbiamo fatto una serie di iniziative che ci hanno consentito sia con i colleghi con cui abbiamo costruito le iniziative ma con tutti i soggetti con cui abbiamo interroguito di ampliare una rete di relazioni importante su questo tema che ci hanno consentito di mettere in relazione dei mondi apparentemente lontani ma che poi abbiamo nei fatti e nella operatività delle cose che abbiamo discusso li rendono inevitabilmente molto connessi, abbiamo visto e toccato con mano le relazioni che già oggi esistono e quelle buone prassi dove quelle esperienze dove gli attori sono stati già capaci di integrarsi indipendentemente dagli indirizzi di politica o agli strumenti di politica economica messi a disposizione. Quindi da qui partiamo e da qui dobbiamo iniziare a pensare a come portare avanti e rafforzare queste attività di rete che abbiamo realizzato in questo breve anno in cui noi ci siamo concentrati nelle attività come rete su questo aspetto. E quindi parto con alcune cose che io vedo importanti fare come rete in collaborazione con gli altri soggetti. Innanzitutto dobbiamo pensare a come favorire cose che sono emerse oggi, non è che mi invento nulla di nuovo e che in parte hanno detto, diciamo anche i colleghi che prima di me sono intervenuti. Come lavoriamo per favorire quella crescita di conseguenza dei territori su questi temi? Abbiamo parlato di competenze, abbiamo parlato di formazione, abbiamo parlato di conoscenza condivisa di queste tematiche. È evidente che i percorsi che oggi abbiamo fatto attraverso questi momenti di confronto pubblico, attraverso, ricordo anche, abbiamo pubblicato che avete ricevuto una rivista su un magazine della rete sui migranti, abbiamo intenzione di fare un rapporto, speriamo, di ricerca di arrivare a compimento anche di quello. Però, diciamo, probabilmente non è sufficiente fare questo e dobbiamo pensare come essere e raggiungere i territori nel trasferimento di queste competenze, formazione e conoscenze. Questa è una riflessione che io invito tutti quanti a fare insieme. Come costruire una visione che vada oltre l'accoglienza e l'integrazione, mi sembra che ci trovi tutti concordi sulla necessità di ragionare una logica che sia di sviluppo territoriale, che sia il dia che preveda dei percorsi dove accoglienza e integrazione sono realmente inseriti in percorsi di lungo periodo che consentano sia di integrare le popolazioni migranti ma anche di favorire lo sviluppo territoriale. Ma per fare questo probabilmente non basta un solo strumento di politica. Stamattina Paola Casavola parlava di segmentazione, un riferimento in particolare alle popolazioni target delle diverse politiche ma io parlerei di come superare la segmentazione in generale delle politiche anche rispetto a settori di intervento, beneficiari degli interventi, territori di riferimento. È chiaro che su questo serve il lavoro comune, non è il lavoro di un singolo soggetto e serve riflessione comune su cui ovviamente credo che sia importante lavorare come rete. Poi sulle politiche segmentate ritornerò parlando anche un po' più nello specifico di come superare in parte la segmentazione, almeno dal mio punto di vista. Sicuramente la rete può anche farsi carico, parlando la rete in senso lato, non soltanto la rete come rete urlare nazionale, quindi una rete composta da una pluralità di attori, di pensare, riflettere come progettare e iniziare in modo che possono nascere sui territori, perché chiaramente è importante anche sperimentare, è importante accompagnare dei territori in alcuni percorsi creando e mettendo a disposizione tutti gli strumenti che possono essere necessari. Ovviamente per questi percorsi concordo con Alessandra dell'importanza anche di continuare nella conoscenza in termini oltre che di ricerca ma anche di monitoraggio e valutazione di quelle che sono le esperienze che abbiamo di fronte. Ovviamente l'altro elemento su cui lavorare è come favorire la nascita, la crescita e il rafforzamento di reti a livello territoriale. Tutto questo lavoro che può fare la rete deve essere poi finalizzato a favorire, fare rete a livello nazionale, a livello centrale è importante, ma la risposta alla segmentazione a mio avviso poi può arrivare fondamentalmente dal livello territoriale, devono essere le reti territoriali capaci anche di sfruttare le opportunità o superare i vincoli che talvolta le politiche segmentate mettono a disposizione. Quindi sicuramente noi possiamo lavorare immaginando di sensibilizzare la nascita e l'afforzamento, la crescita di reti locali. A mio avviso non esiste un modello rigido in cui incastrare percorsi di sviluppo. Sicuramente queste reti, credo è stato detto da più parti, devono prevedere un ampio coinvolgimento degli attori territoriali, devono essere in qualche maniera inclusive direi eterogenea nelle loro competenze e ruoli, perché è importante mettere a sistema le competenze e i ruoli di tutti gli attori che lavorano sul territorio. Più volte anche nelle relazioni di sintesi è uscito fuori l'esigenza di mappare i punti di forza, i fabbisogni del territorio, i fattori su cui puntare per lo sviluppo del territorio. Però è anche importante non reinventarsi ogni volta la lettura del territorio, di sfruttare tutte le competenze che, lo cito un po' di esempio questo, che soggetti hanno già maturato in questo campo, ovviamente condividendole, arricchendole con altri soggetti, però la messa a sistema delle competenze e dei ruoli dei diversi soggetti e dei diversi attori credo che possa favorire la crescita sul territorio di una visione condivisa e inclusiva dello sviluppo di quel territorio. ovviamente come non esiste un utero fisso, non esiste un leader fisso in questi percorsi, credo che ogni territorio abbia le sue caratteristiche, abbia dei soggetti che sono più pronti di altri a fare da guida, a prendere la leadership di un percorso di questo genere. È chiaro che, lo ha detto nella sua relazione iniziale Katia e è stato ripreso anche dalla collega dell'Anci, è chiaro che i comuni hanno ruolo centrale, alla fine i comuni sono nella maggior parte dei percorsi che vedono poi i territori protagonisti di iniziative di varia natura, però è chiaro anche che non sempre i comuni hanno le forze per essere loro in prima battuta i protagonisti e quindi abbiamo la fortuna sui territori di avere in alcuni casi altri soggetti, i Gale, le Ollus, i parchi, in cui uno dei casi era presente anche l'azione di un parco. Ci sono diversi territori che possono, in misura, attori nei diversi territori che possono avere capacità di orientare e di prendere le fila di un percorso di sviluppo che sia il più possibile un percorso di sviluppo sostenibile e un percorso di sviluppo sostenibile. È a nostro avviso anche un percorso inclusivo delle popolazioni migranti. Quale è il ruolo delle politiche? È chiaro che in particolare io devo pensare alla politica rigola comune, alla politica di sviluppo urale perché è quella che conosco meno, le altre le conosco molto meno. È chiaro che abbiamo tutte le politiche, bisogna pensare a delle politiche più integrate, è un ritornello che ci vediamo da quando lavoro sulle politiche, quindi da molti anni, però poi nella pratica tutto questo è molto complesso perché le politiche hanno regole diverse, perché le politiche hanno tempi diversi, perché le politiche hanno beneficiari diversi, perché sono politiche calate dall'alto, perché è difficile per quanto desideriamo tutti quanti delle politiche pensate dal basso, poi in realtà nel momento in cui si iscrivono gli accordi di partenariato o i programmi di sviluppo urale o i programmi operativi regionali pensare delle politiche che tengono effettivamente conto di tutto questo. Quindi di questo dobbiamo tenere conto quando ci rapportiamo alle politiche e appunto, come ho detto anche prima, credo che un pezzo di questa segmentazione che sarà naturale e difficilmente superabile possa avere delle risposte dai territori, di territori che devono essere capaci anche di adattare diversi strumenti di politica e metterli insieme e di fare delle alleanze sui territori, perché se io appunto quando penso alla politica di sviluppo urale e ai suoi beneficiari, penso che ci sono delle regole scritte, gli agricoltori, i GAL e quanti altri possono accedere alla politica di sviluppo urale e non guardo a quello che può derivare invece finanziando attraverso una politica di Fondo Sociale Europeo, di FESRA, finanziando un'opera pubblica o una ONRUS per altre iniziative e non lo penso in maniera integrata, ovviamente non creo quella sistema che inevitabilmente invece deve favorire un percorso integrato, però è difficile farlo dall'alto, queste cose credo che si debbano fare sui territori, è chiaro che dai territori devono arrivare quelle indicazioni e noi dobbiamo essere pronti a prenderle lì dove gli strumenti sono proprio pensati male, dove non funzionano, dove poi alla fine i beneficiari sono tre perché i bandi sono scritti male o non rispondono alle esigenze, questo è chiaramente una responsabilità del centro di accogliere tutte queste cose qua, risistematizzarle e chiedere che poi le politiche su questo cambino. Per quanto riguarda la PAC e la politica di sviluppo corale, io lo sto dicendo da diverso tempo, sicuramente come dice Serena la riforma quantomeno dà un indirizzo politico, la comunicazione e la proposta di riforma dà un indirizzo politico perché comunque il tema delle migrazioni entrano a pieno titolo dentro un regolamento settoriale come quello della PAC, però la PAC in particolare la politica di sviluppo rurale è una politica di sviluppo territoriale e quindi al suo interno, a mio modo di vedere, già tutti gli strumenti e tutte le misure che sono necessarie per fare una politica di sviluppo territoriale che abbia un pezzo di sua popolazione target anche i migranti. A mio modo di vedere non bisogna inventarsi niente, non bisogna inventarsi nuove misure, non bisogna inventarsi nulla di particolare. La politica di sviluppo corale prevede investimenti nelle aziende agricole, dove i beneficiari sono quelle aziende che poi utilizzano lavoratori migranti, non si tratta di sottrarre risorse e spostarle in qualche altro capitolo destinato, si tratta sicuramente di ripensare delle cose, ripensare magari anche in maniera, in alcuni casi che possono creare delle rigidità all'inizio della loro ripensata, facevo riferimento agli investimenti aziendali, è chiaro che pensare agli investimenti aziendali la cui priorità di accesso, il criterio di accesso è un'azienda agricola che abbia una certificazione di qualità, penso alla legge sul lavoro agricolo di qualità o il rispetto delle regole del gioco rispetto al lavoro in generale, quello migrante ma anche quello nazionale, può essere sicuramente una misura che può incentivare una visione diversa da parte dei risultati diversi rispetto alle problematiche connesse all'immigrazione. Adesso mi sono focalizzato sugli investimenti delle aziende agricole ma non volevo fare questo, in realtà gli strumenti esistono e sono a completa disposizione, ci sono le misure di formazione, ci sono le misure di consulenza, ci sono le misure per le infrastrutture e per i servizi alla popolazione nell'area orale, ci sono gli interventi che possono portare avanti i dialoghi e così come ci sono una serie di altre misure di cooperazione, di integrazione, di interventi a livello territoriale che sono pienamente adattabili alle esigenze di sviluppo e di inclusione sociale, su cui ovviamente abbiamo un investimento che deve venire da parte nostra e creare ovviamente la sensibilità verso l'utilizzo di queste misure anche in maniera più ampia e ovviamente anche da parte dei territori di utilizzarle e di saperle utilizzare, di averne conoscenza per poterle utilizzare nella direzione corretta. e ovviamente qui riprendo alcune cose appunto su cui abbiamo ragionato oggi e su cui potremmo e dovremmo continuare a ragionare in futuro. L'infrastruttura SPRA che indipendentemente dai decreti di riforma esiste e deve continuare a esistere nelle competenze della rete che ha costruito è fondamentale che impari a conoscere ovviamente gli strumenti che in parte non nel territorio che già si conoscono, che possono essere strumenti di operatività per continuare a portare avanti progetti di sviluppo territoriale, rurale, inclusivo, che i territori devono inevitabilmente sapere cosa. Mi fermo. Grazie.